Derby in vista per l'Hockey Club Pistoia, specialità su Prato Serie A2, che sabato andrà a far visita all'ambizioso Cuspisa. I ragazzi di Filippo Treno sono riduci da un buon momento di forma evidenziato dal successo contro Reggio Emilia e dal rocambolesco pareggio con la Lazio. Gli arancioni si trovano al terzo posto della classifica provvisoria, proprio insieme ai cugini pisani. C'è un derby alle porte, quello di Serie A2 di Hockey su Prato, fra Cuspisa e Hockey Club Pistoia. Filippo, intanto che partita sarà? Sarà una partita molto dura e difficile perché sicuramente qui si segnerà una svolta, ovvero Cuspisa che gioca per le parti altre della classifica e noi per salvarsi. Tutte e due a pari punti, tutti e due rivali da sempre, il derby toscano sarà sicuramente una partita ricca di emozioni perché giocheremo tutti e due col coltello fra denti. Che indicazioni ti ha dato questa prima parte di stagione, visto che era il debutto in questa categoria? Questa è una parte di stagione molto interessante, la cosa a cui spero è che noi abbiamo dei margini di miglioramento, man mano che ci adatteremo a questa categoria. Le altre squadre, ben o male, sono consolidate e quindi posso capire più o meno come riusciranno a giocare. Noi, ben o male, siamo una sorpresa partita dopo partita che giocheremo sempre sul filo di lana ma che mi auguro appunto dei margini di miglioramento. Come ci arrivi a questa partita? L'organico è a posto, recuperi un giocatore sudamericano che era squalificato? Sì, recupero Mariano che era squalificato, recupero Masi da un infortunio e poi arriviamo a questa partita pieni di rabbia, con una rabbia causata da un pareggio detto in maniera brutale rubato all'ultimo minuto. E se io riuscirò a convogliare questa rabbia in motivazione della squadra, io sono sicuro che sabato a Pisa arriveremo con la carica giusta. Che tipo di squadra è Pisa? Pisa è una squadra molto solida, consolidata nella categoria, con tre giocatori extracomunitari, due egiziani e un argentino, che stanno ognuno nei vari reparti. Quindi sarà molto difficile cercare di scovare quali sono i punti deboli, ma noi sarà proprio lì che sto analizzando i video e tutte le immagini possibili per riuscire a cogliere quali sono gli elementi per riuscire a farli male.